Bene, mandiamo un altro brano Allora, mandiamo un brano di una band giapponese Questa band giapponese, Imono, è ormai di fama internazionale Suona il cosiddetto post-rock Nome col quale si è scelto di disegnare un certo tipo di musica alternativa Nata nel corso degli anni 90 E protrattasi poi fino ai nostri giorni E spesso questo genere di musica viene anche definito Shoe gazing Proprio letteralmente fissare le scarpe, guardare le scarpe In quanto nelle performance dal vivo I musicisti sono talmente presi dall'esibizione e dalle atmosfere create Che letteralmente si chiudono con la testa bassa sugli strumenti Facendo sembrare che per l'appunto gli interessa è soltanto guardarsi le scarpe Quindi Imono follow the map Stavo aspettando una perfetta pronuncia in giapponese E invece niente Il titolo è in inglese Follow the map Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Non dico elencheremo ma insomma cerchiamo di denunciare episodi di sciacallaggio sia politico sia anche umano. E' un po' per non parlare di un episodio molto grave che io penso debba tutti farci riflettere. La satira di Charlie Hebdo. In questi giorni drammatici in questi giorni drammatici in cui terremoti, valanghe, bufere di neve si abbattevano sulla zona già colpita dai terremoti di agosto e ottobre. sulle nostre baccheche Facebook siamo stati inondati di esperti coordinatori della protezione civile, di Salvini in dopo sci e da polemiche sui soldi degli SMS solidali. polemiche polemiche che variavano da danni soldi alle banche non ai terremoti e arrivavano ai soldi degli SMS non sono mai arrivati. Per capirci il governo ha stanziato per la ricostruzione 4,8 miliardi per il terremoto di agosto che poi sono stati rinforzati da 6,1 miliardi della manovra finanziaria di dicembre, quella che i nostri eroi chiamano mancia elettorale. Gli SMS e la raccolta fondi fatta direttamente dalla protezione civile riguarda la ricostruzione delle scuole ed era già stata sperimentata con successo nei territori dell'Emilia. Su Salvini che non vota lo stanziamento dei fondi per la ricostruzione a Bruxelles ma si fa i selfie sul Gran Sasso è stato già scritto molto. Ma chi ha scatenato la polemica sugli SMS? La deputata Laura Castelli del Movimento 5 Stelle facendo una interrogazione parlamentare in cui insinuava che i 28 milioni raccotti fossero scomparsi. Un edit della deputata Castelli mi fa notare su Twitter che lei non sosteneva fossero scomparsi, bensì bloccati, essendo bloccati perché la raccolta fondi è ancora in vigore e il risultato non cambia. Spiace non aver visto la stessa enfasi nello smentire gli articoli e i post che riprendevano la sua interrogazione dicendo che i soldi erano spariti. Notizia falsa che è stata smentita prima dal ministro Finocchiaro in aula poi dalla protezione civile che ha spiegato come i soldi raccolti servano per la ricostruzione e non per l'emergenza per cui ci sarà una contabilità speciale. Per l'emergenza sono stati stanziati diversi milioni di euro che hanno un canale diretto che sono diversi dalla raccolta fondi per la ricostruzione delle scuole. Nulla che la deputata e i suoi assistenti non sapessero e tutto stabilito da una legge dello Stato, il DDL 189 convertito. Purtroppo nel frattempo la notizia dell'interrogazione della cittadina era già stata ripresa da decine di siti satellite e girava indisturbata dalla realtà delle nostre bacheche. Allora la domanda è un politico e un parlamentare che utilizza le istituzioni per minare la fiducia nelle istituzioni stesse in un momento delicato come questo come si può definire? Dove vogliamo arrivare? Quale guadagno può avere nel terrorizzare chi è già terrorizzato dal terremoto e nell'indignare con notizie false persone che in questo modo non si fideranno dello Stato? Mi sembra che qui ci sia chi cerca di cavalcare la tigre senza averne minimamente cognizione, senza sapere che la tigre ti può anche mangiare. Qui il livello degli sciacalli è stato allegramente superato. Ma riprendo quella cosa su Charlie Hebdo perché lo sciacallaggio ormai di Charlie Hebdo, le vignette Charlie Hebdo non possono essere definite certamente satira. Nemmeno sciacallaggio, forse qualcosa addirittura di peggio. Però noi dobbiamo dire che certamente non tutto è andato nel verso giusto, anche se veramente la coincidenza di terremoto, di bufere di neve che non si vedevano da 40-50 anni. Qualcuno si ricorda che l'ultima vera bufera di questa natura è stata nel 1956. Io purtroppo devo dire candidamente che ho assistito a quella bufera. Anche qui a Roma? No, al mio paese, a Orte, ma anche a Roma. Facevamo, anzi avevo la febbre e mia madre mi portò un po' di neve per fare appallate dalla finestra, perché se no piangevo per non poter fare appallate con i bambini. Quindi questo è stato un po' il dato di una questione che ha avuto una straordinarietà. Poi si sono accumulati problemi che conosciamo, cioè le regioni del sud non sono le regioni del nord. Le reti elettriche non hanno mantenuto. La rete elettrica, la dotazione di mezzi non è la stessa. Su Facebook un mio amico ha scritto La prevenzione non porta voti. E io ho risposto dicendo che nei piccoli comuni, nei piccoli medi comuni, chiunque si azzarda a difendere estrenuamente il territorio dall'assalto dei costruttori, chiunque vuole regolamentare quello che viene ritenuto il bene principale, personale, non comune della gente, che è la casa, viene sbaragliato. E se per sua sfortuna, come primo voto, si trova ad essere un sindaco che vuole applicare le normative e la difesa del suolo, il secondo mandato non lo fa di sicuro. Poi c'è un principio importante che purtroppo non passa tra le persone. Come tutti i beni, soprattutto quando accadono i terremoti, io adesso vengo da una zona terremotata che è la provincia di Avellino, quindi nell'80 abbiamo subito un bel terremoto, 6.8, 6.7, quindi ha fatto 3.000 morti e quindi vediamo ancora i segni. Io ho vissuto per 4-5 anni nei fabbricati, quindi ero piccolo, non ricordo quasi niente però. C'è un concetto fondamentale che non passa. La casa è un bene come qualunque altro bene. C'è il computer, nel senso non affettivo, è un bene che si deteriora. Cioè la casa non ha una vita eterna. Noi siamo abituati a pensare la casa, quando compro casa, la casa ha una vita eterna. In realtà non è così, perché la casa che costruisco oggi, fra 150 anni, fra 200 anni, non ha più le stesse caratteristiche che questa da costruita 150 anni prima. Quindi in realtà, quello è il problema per cui le chiese cadono, quindi tu devi trovare un equilibrio tra conservazione e riammodernamento. Quindi fondamentalmente tu dovresti, i palazzi di Roma andrebbero abbattuti e ricostruiti. Però non lo farai mai, perché uno che compra casa pensa al fatto che ho comprato casa, perché costa tanto, qua a Roma io ho pagato la casa 300.000 euro, cioè, 300.000 euro di mutuo che ho pagato le tasse. E allora stai a posto. Sì, sì, sto a posto. E quindi, cioè, io a pensare che fra 100 anni devo buttare giù la casa e ricostruire un'altra, ma chi ci pensa? Invece io penso che i miei figli benificeranno di quella casa. Ma sai, questo discorso vale per tutto. Tutto. Se si costruisce un ponte e non si fa un'attenta manutenzione, no? E poi c'è quel crollo che è successo, questa volta non è stata al sud, è stata al nord, però con quel camion che aveva un carico eccezionale di ferro, sul cavalcavia, eccetera. Insomma, la manutenzione sarebbe, come dire, l'investimento maggiore e migliore che potrebbe fare... Sì, ma anche noi andabili siamo. Grazie.